ciao a tutte e bentornate sul canale approfitto di questi dieci minuti per farvi questo mini video spacchettamento avon di campagna 5 che vi ricordo termina proprio questa sera e il pacco mi è arrivato questo pomeriggio visto che poi devo proprio consegnare subito queste cose cogliamo la valla al balzo e facciamo questo video c'è soltanto una novità che avevo ordinato la volta precedente ma non mi avevano mandato quindi a respediremo e è questo nuovo bagno doccia bagno schiuma della linea bubble bath nella nuova profumazione pure sensitive e sono proprio curiosa è veramente una profumazione delicatissima ricorda un po il mare in effetti come vedete qua c'è un po tema marino molto molto sono veramente curiosa di provarlo nella vasca da bagno allora come sempre troviamo la fattura eccola qua e c'era anche un catalogo di campagna 5 non mi dite perché ma c'era anche questo dentro ok tanto domani inizia campagna 6 che campagna 6 invece vi ricordo è questa qua allora abbiamo poche cosine e non novitate il senso non per me per lo meno a parte forse forse una allora mi hanno chiesto due borracce ve le ricordate le borracce quelle mandala voglio far vedere che le trovate nel supplemento nel catalogo flash online al a 6 euro e 99 quando era uscita questa stava nel 99 quindi se siete interessate ricordatevi di inserirla che è acqua che io trovo estremamente estremamente comoda che vi ricorda anche gli orari per bene è da un litro e e ha riscosso un certo successo perché io me la porto e me le hanno richieste quindi questa è esattamente la quarta quinta quattro e cinque non lo so non mi ricordo comunque di queste borracce quindi ricordatevi perché sono fino a esalimento scorte quindi se siete interessate inseritele subito nell'ordine questa sera poi ho tre mascherine quelle lavabili queste però sono quelle versione adulto queste non le ho prese io ho preso quelle versioni da bambino abbiamo poi un'acqua micellare questa qui della nutra ec fat in questo nuovo pack molto carino uno shampoo advanced technique loss control quindi diciamo che non dico anticaduta ma sicuramente fa parte di quella di quella serie poi sempre per quanto riguarda questo catalogo flash c'erano anche i gelmani sia i gelmani che sono questi a 5,90 che avevo già ordinato anch'io l'altra volta e anche la nuova versione in spray che è questa qui dell'avon care quindi diciamo l'igienizzante mani in formato spray poi ho un classico una classica crema a strappo per i punti neri della un mascara ultra volume questo qui nero che non che trovate in questa imperdibile diciamo offerta di campagna 6 che sarebbe questa qui ovvero tutto il set 11 euro e 99 pochette mascara e anche questi formati prova più campioncini quindi secondo me una super fantastica offerta e trovate proprio questo mascara qua poi un gloss nude muse nella colorazione nude muse lip gloss questa colorazione qua una tinta mark nella colorazione nude vibes vediamo se riusciamo ad aprirla e la colorazione è questa qua e poi un illuminante show glow in polvere nella colorazione no semplicemente a furbin infatti questa colorazione qui chiara diciamo bianca c'era anche una colorazione mi sembra su rosa non ricordo male questo mini spacchettamento avon di campagna 5 è terminato e come sempre se vi fa piacere e non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e se vi va lasciate un like io già domani venerdì manderò subito un ordine di campagna 6 quindi sono veramente veramente curiosa di tutto perché sono curiosa ve lo confesso di vedere il catalogo di campagna 8 perché come sapete diciamo il quarto estivo di avon se non lo sapete ve lo dico io termina con campagna 7 quindi il catalogo di campagna 7 l'ho già l'ho già visto e quindi sono assolutamente curiosa di vedere campagna 8 quindi il nuovo catalogo che ci apre all'ultimo quarto di avon quindi tutta la parte autunno inverno dove trovo sempre un sacco di cose da prendere perché l'estate anche a me insomma un po come vedete mi nebbisce quindi non acquisto tantissimo però ci rifaremo sicuramente da settembre in poi questo è chiaro vi lascio un fantastico abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao